Massimo, guarda, da ex politico, dico che ha ragione, ora la politica deve tacere, deve soltanto lavorare, dare le risposte che chiede la gente, anche perché purtroppo, per troppo tempo abbiamo visto la politica entrare nelle corsie degli ospedali per scegliere i peggiori e non i migliori. Ha fatto tagli, come dicevamo prima, a tantissimi e non ha ascoltato queste persone che hanno gridato molte volte che c'erano dei rischi. Oggi li definiscono camici bianchi, angeli bianchi, però non li abbiamo ascoltati in passato.